Benvenuti amici, io sono Salopimpo e oggi andiamo a fare sushi con Sushi Roll 3D No vabbè, abbiamo il nostro ristorante di sushi ragazzi, guardate qui che carino Abbiamo i primi clienti, vediamo che vuole, che vuole, tizio, ho aperto ora, dammi, dammi tempo Allora, let's roll, forza, vediamo un po' Ah, aspetta, aspetta un attimo Hold to roll, quindi partiamoci di tutto ora, però ho sportato il tavolo, va bene così Andiamoci di riso, ho lasciato un pezzettino di riso, qualcuno pulirà E poi faccio messo a me, a posto, adesso dobbiamo tagliarlo, giusto, sì Hold to slice, ok, sempre hold, faccio solo hold io, a posto, pronto Ti devo andare, a posto, ti è piaciuto, ardali come è felice Ok, tappa sull'emoticon per guadagnare di più, ok, perfetto Ti è piaciuto, ardali come è felice, manco ti avessi dato il grano della vita Va bene, lo sit, andiamo al prossimo, tizia, a posto, ti ho visto, surprise box, open, vediamo Ogni tanto qualcuno mi dà qualcosa gratis, peperoncini Attenzione, nuova decorazione, new dish, nuova, no, i noodle, possiamo fare i noodle adesso Andiamo, forza Ah, quindi al giorno 1 dobbiamo completare tutti questi obiettivi per sbloccarci eventualmente cose nuove Ciao tizia, che vuoi tu? Let's walk Vuole un po' di cosa, va bene Allora, hold to make noodles, ok, aspetta un attimo, va bene così Te ne do in quantità industriale, guardali quanto ti faccio felice Così ti sazi e non mi rompi le scatate A posto Abbiamo un po' trasbordato, va bene Seleziona un decoratore, andiamoci di peperoncini Forza, abbiamo sbloccato ora Vediamo, move to decorate Guardali quanto, mamma mia, morirà questo Questa Guarda qui, ma ti piace con tutti questi peperoncini? Morirai Morirai da qui a poco, è un po' schifo fa sto piatto Però a te piace, l'importante è che ti piace Ospedale, 118, c'è una tizia che sta per morire con tanti peperoncini Allora, lo sit, forse andiamo Andiamo avanti Che mi sbloccate qua Il sashimi, ok, colleziona Forza No, non colleziono perché mi serve il video Andiamo avanti Ciao tizia Che fai, come sei bella, come sei veramente Let's slice Andiamo a fare il sashimi Move to knife Ah, dobbiamo seguire la linea qua Guardali che fetta precisa che ti ho tagliato Aspetta Aspetta, qua mi devo concentrare per tagliare Ok Perfetto Attenzione Affondiamo, affondiamo, affondiamo Affondiamo, affondiamo A posto Tre belle fette di sushi qua Ok, di salmone A posto Va bene così Te lo decoro con cosa? Con l'erbetta, la cipollina? Ok, ecco Forse morirai un po' meno rispetto all'altra Però A posto Dico È brutto da vedere Però Di che è buono Mangiatele E non rompete le scato Guardali Che facce Che fanno E lì c'è un tizio del Monopoli Lo sit C'è il tizio del Monopoli dietro Aspetta Che qua mi ha sbloccato qualcosa Che mi date? Che mi date? Che mi date? Che mi date? Una motosega Adesso sì Che siamo precisi Come un chirurgo 33% Per il New Dish Andiamo avanti Forza tizio del Monopoli Che vuoi? Let's roll Forza Andiamo avanti Bonus le Ah Ah Con i soldi Infatti Andiamoci così Altro che sushi Qua facciamo soldi Come se non ci fossero domani A posto Lo puoi mangiare Tagliamo Con la motosega Giustamente A posto Lo puoi mangiare Te lo condisco Con cosa? Con il profumino Cos'è? Ha diamanti Eh Buono Te mangiateli Mangiateli A posto Te li puoi mangiare A posto Ti faranno un po' indigestione Guarda quanti soldini Che mi dà però Prenditele indigestione Basta che mi paghi Abbiamo un casino di soldi 380 Dico non sono tantissimi Però Eh va bene così Forza Andiamo al prossimo Tizio dietro Non fare così The one complete Il giorno non ho completato Va bene Possiamo comprarci qualcosa Con questi soldini Abbiamo un ascia Pure da sbloccarci Tap to upgrade Forza Upgrade che cosa? Il pavimento Upgradiamo tutto qua Ah le panchine Upgradiamo le panchine Così guadagniamo sempre di più Avremo sempre più clienti E guadagneremo sempre di più Abbiamo finito i soldini Come sempre Finisco sempre i soldini In tutti i giochi Questa non riesco a farla Però c'è l'upgrade free Ma chi se ne frega Andiamo avanti Andiamo avanti Tu sembri Bruce Lee Che vuoi? Let's walk Vuoi un po' di noodle Ok E via che te li Noodle rossi Noodle al pomodoro Te ne faccio una quantità industriale Tranquillo Tanto c'è chi paga Tanto peperoncino Anche per te Tanto peperoncino Ma la faccio cadere Dalla scatola Ma questa gente morirà Secondo me Non me lo vengono a dire Perché giustamente Muoiono Quindi non fanno in tempo Però dico muore Secondo me Con tutto il suo peperoncino Va bene Andiamo al prossimo Forza L'orso yogi È arrivato l'orso yogi Me la sbloccate Lascia al prossimo Ok Forza Ciao orso yogi Che vuoi? Vuoi le cose al miele? Sblocca il bonus level Ho la connessione disattivata Quindi dopo Let's squeeze Che c'è qua? All to make rise Ok Aspetta un attimo Sono uscito un po' fuori Va bene così Guarda qua Che macchine industriali Che abbiamo Altro che piccolo negozietto Qua altro che piccolo ristorante Qua abbiamo proprio macchine industriali Che non ti è piaciuto? Ma che è il rottore di scatola? Come che non ti è piaciuto? Guarda lì è perfetto Non ti è piaciuto? Sono faccia di capo Guarda lì come sono perfetti Non ti lamentare È lo skettles Però non abbiamo qua Nel video Vabbè Ti metto sempre le piantine Non facciamole cadere Ti metto le piantine E fatele piacere Perché qua i video Sono disattivati A posto Next Ti piace? Dai che ti piace Dammi tanti soldini Forza A posto Me la sbloccate? Lascia Per favore Surprise box Ok Open Che mi date? Che mi date? Che mi da? Eccola qua Abbiamo l'ascia Adesso sì Che taglieremo sushi Come se non ci fossero mai Andiamo al prossimo Nuova ricetta Ciao tizia Sembri d'ora L'esploratrice Andiamoci a potenziare un po' Il negozio Potenziamoci il bancone Sì E potenzia Altro surprise box Forza E qua I regalini Cos'è? Un tappetino New plate Unlocked Non è un tappetino Un piatto Un nuovo piatto Ok Adesso la gente sarà più felice A posto Qua possiamo ponere La piantina Facciamo diventare un alberello I tizi sono in coda Quindi potete rimanere in coda Perché non ho più soldi Andiamo a farli Forza Ciao tizia Ciao d'ora l'esploratrice Ti faccio un bel sushi Tranquillo E poi te la taglio con l'ascia Attenzione I chiodi pure Formaggio Formaggio E salmone A posto Adesso te lo taglio con l'ascia E via di ascia Alla motosega che fine ha fatto? Che finita la benzina A posto Ci mettiamo l'herbette qua La frotisiaca A posto Dora Te ne puoi andare Abbiamo finito le spezie qua Te ne puoi andare Pagami 18 mila euro Tante faccine per me Ok Tanti soldini A posto Te ne puoi andare Dora E c'è una spaventapasse con la zucca Con la faccia della zucca Vabbè Che abbiamo sbloccato New dish La grattugia Ok Ciao tizio Che vuoi Bonus level Te ne puoi andare Perché non ho la connessione A posto Tu che vuoi Let's slice Forza Andiamo a tagliarvi Ah qua Facciamo il set Il set completo Guarda qua C'è più mais Che salmone Sono un negozio un po' Taccagno Però va bene così Forza Guarda lì C'è più condimento Che salmone A posto Basta che la gente è felice Chi se ne frega Abbiamo Abbiamo 128 Con 156 Che abbiamo Ce ne andiamo Un totale Di 284 Possiamo potenziarci qualcosa Mi sa di no Perché tutto era a 600 Andiamo al prossimo Forza tizia Che vuoi Let's squeeze Vai che ti squeeze Tutta Vieni qua Vieni qua Adesso Dobbiamo farlo bene Perché Non mi è piaciuto tanto Ok Perché parto un po' in ritardo Effettivamente Forse perché non gli piace Ma non gli piace A lei piace A quello di prima Non so Non gli piaceva Era più fastidioso Il cliente di prima I clienti fastidiosi Ci sono sempre A posto Va bene così Nuovo piatto Tap to change plate No va bene questo Va bene questo nuovo A posto Ecco ti senti Iniziamo Va bene così Ti piace Ti do un po' di cetriolo Un cetriolo E un po' di mais Forza Ti do tutto Ti do tutto Basta che siete Grattugiamo più velocemente Anche siamo A posto Next Ti piace? Ci ho messo tutto L'impegno possibile Forza datemi Tante banconote Forte la faccia Che fanno Sono in estasi Lo sit Ok Abbiamo 4 niente Ancora niente Però abbiamo l'ascia Forza Ciao Sbonus level No non ce l'ho Tra la panna Tra la panna Let's roll Vai che sblocchiamo Un altro oggetto Aspetta Un attimo Perché I gamberetti Non si spiaccichiamo Lì nel roll Chi se ne frega Ok Un po' del formaggio Variato Infatti Quello non lo dovevo Prendere Perché era variato Mi sa che questo Non gli piace Va bene questo Va bene qui Questo non gli piace Quanto fa schifo Questo in coma Va a finire Direttamente Questo va a finire In coma Prova all'ospedale 118 Tanto peperoncino Così copre il gusto Del formaggio schifoso Però vediamo Ti piace lo stesso Insomma Insomma Guarda lì È arrivato il trago Ok dammi tutto Dammi tutti A posto Possiamo potenziarci qualcosa Ancora no È come i soldi Si fanno veramente lentamente Abbiamo sbloccato Però una nuova ricetta Move to knife Aspetta che Ah Dobbiamo squamare il pesce Fatto Guarda che Ancora Il tonno Fatto Te lo taglio Te lo taglio Tap to cut Mamma mia Mamma mia A posto Tutto quel salmone Per fare una strisciolina Fatto Ok Ok Il salmone Da servire Il tonno Da servire È pronto A posto Guarda qua Che effette precise Che faccio Se posso fare il chirurgo Con quale forza di gravità Non si sa Però dico Cioè Svolazzo A posto Tap to change plate Vediamo Che abbiamo qua Solo questi Da sbloccare tutti Con i video Mi tengo questo gratis Vabbè Guarda qua Adesso ti ci metto Una tonnellata di peperoncino No Il mais Gattuggiamo un po' di mais Il mais di grattugiato Non l'avevo mai visto Però Ce l'abbiamo Mettiamo Il cocco non ce l'ho Il cocco costa troppo Andatevelo a comprare Dal coccaio Forza Va bene così Ti piace? Gli piace Ok Adesso si che Possiamo potenziarci qualcosa Forza Allora Che mi sbloccate qua Che mi sbloccate Nuove cose Ah un piatto foglie Grande così Ok Vabbè Possiamo sbloccarci L'ultima cosa Vediamo di che si tratta Vediamo un po' Let's walk Forza Questo vuole il walk Dopo ci andiamo a potenziare il negozio Via Via di noodle neri Come se non ci fosse domani Vi faccio felici Guardate quante ve ne metto A posto Ok Vi grattugio sempre il mais Veloce 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 Mais Così facciamo il pop corn E poi un po' di cetriolo Va bene così Andiamo al prossimo Ok Nuovo piatto Dov'è il piatto foglia? Eccolo là Perfetto Guarda lì E quale ristorante Vi offre questo servizio Guarda qua Che bello Arrivata di nuovo Dora l'esploratrice Giorno 3 completato Abbiamo Che cosa? La katana La katana però Me la sbloccherà dopo Quindi ragazzi Se il gioco vi piace Magari ci portiamo una serie Fatemi sapere nei commenti Ovviamente lasciate un bel like Secondo il caso Se non siete iscritti Attivate la campanella E poi c'è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Schereticia 3D Stiamo finendo il gioco ragazzi Allora siamo al capitolo 5 E stiamo finendo il gioco Perché ci manca L'altra volta abbiamo fatto Il bad con Clashon Quindi abbiamo fatto innamorare